Accoglienza triunfale oggi a menaggio per l'atleta Comasco Pietro Willy Ruta che all'Olimpiadi di Tokyo ha conquistato la medaglia di bronzo. Sulle acque giapponesi con Stefano Oppo il canottiere Comasco ha ottenuto il terzo posto nel doppio pesi leggeri maschile di canottaggio. Grazie a tutti di cuore del sostegno e del topo che ci avete fatto e poi secondo me dietro questa medaglia c'è tutto il lavoro anche di persone sia da Quaglino, dal comune di menaggio che ci ha sempre sostenuto, dalla canottiere di menaggio che quando chiedevo serve una barca nuova, serve una barca nuova, ce la faremo dai, vediamo, 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 alla fine arrivava la barca nuova. L'equipaggio azzurro si è arreso solo a Irlanda e Germania e ha guadagnato il terzo gradino del podio. Con la medaglia al collo Pietro Ruta è tornato oggi dal Giappone ed è stato accolto da una festa a sorpresa organizzata per lui a menaggio. Dopo la finale Pietro Ruta aveva ricordato un percorso lungo e pieno di insidie nel corso del quale non ho mai smesso di credere a ciò che volevo ottenere. Ho coronato il mio sogno, ancora non ci credo. Tocco in continuazione la medaglia per realizzare cosa è successo. Aveva detto prima della dedica del risultato ottenuto. Dedico questa medaglia alla zona del lago di Como per quello che sta passando e alla mia società a cui ho finalmente regalato questo risultato.